Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare una cosa che non ho ancora fatto, non ho mai fatto così, in questo stile. Dal momento che siamo nel periodo del Black Friday, io vi volevo fare, come avete visto dal titolo, il contro Black Friday, non perché mi interessi fare un qualcosa, oppure sia contrario al Black Friday, non mi interessa, ho usufruito anch'io nel tempo di questa iniziativa, per alcuni motivi, ma tante volte, come sappiamo, ci facciamo prendere dall'entusiasmo e a volte prendiamo anche delle belle cantonate, perché ci viene presentato del materiale con delle offerte che spesso non sono così offerte. In questo caso io vi voglio presentare tutto materiale non nuovo, che io utilizzo da tempo e che mi sento di suggerirvi. Non tutto quello che vi presenterò è in vendita su Amazon e sono tutti accessori che vi potrebbero servire per l'attività di videomaking spendendo non tantissimo. Allora, partiamo dalla cosa più semplice, treppiede Manfrotto di marca, ma pagato 15 euro. Non che non esistano altri altrettanto pratici, altrettanto utilizzabili a prezzi inferiori, ma questo è robustissimo, ha una forma che a me piace molto e ha questa testa a sfera. Può stare ovunque, anche nella tasca dei jeans e ce lo possiamo portare sempre dietro quando serve un attacco per la fotocamera, per l'attacco del telefono e tutto quello che può servire per questo piccolissimo accessorio che io trovo indispensabile. Andiamo su un'altra piccola chicca che ho acquistato tempo fa e che ho utilizzato veramente tantissimo. Quando ci sarà la possibilità o quando avrò il momento adatto, ne acquisterò sicuramente altri. È un braccio snodabile con questa testa. L'offerta in quel caso era comprensiva di testa, a volte viene venduto separatamente. Questa testa che è un morsetto che abbraccia qualsiasi cosa. È impressionante quello che potete abbracciare con questo morsetto, anche perché si apre talmente tanto che proprio aggrappa qualsiasi cosa. Adesso ho tolto le due protezioni in gomma perché non mi servivano, non avevo niente da abbracciare che non potesse essere rigato. Attenzione perché queste protezioni si sfilano facilmente. Molta attenzione, le perdete facilmente. La cosa che vi posso suggerire è, se vi serve tenerle, un goccio di cianocrilato, chiamiamolo attack per capirci, e noi non le perdiamo più. Un attacco per una vite da un ottavo e un attacco per una vite da un quarto. Questo è il braccio. Con un comodissimo galletto si apre e questo fa sì che si sganci e si possa ruotare tutto al suo interno. Si ruota questo, si ruotano questi. Dal momento che stringiamo questo galletto centrale, si ferma tutto, si blocca tutto. Qui ci sono due attacchi sui quali ci possiamo agganciare con qualsiasi cosa, con delle viti, in questo caso solo da un quarto. E anche questi terminali sono regolabili e hanno anche un'attacca per essere spostati e essere portati precisamente a 90 gradi. Quindi stringiamo, non si muove più niente. Altra cosa, il microfono che io sto usando è l'Arc M1 della Holyland. L'ho acquistato un po' di tempo fa, anche questo lo trovate ancora ad un buon prezzo. Io l'ho visto su Amazon ancora 140 euro, come l'ho pagato io, ma l'ho trovato anche su un sito in offerta a 99 euro, più spedizione penso 6 euro e qualcosa, quindi poco più di 105 euro diciamo. Quindi una buonissima offerta. Questi sono stupendi per comodità, hanno la custodia ricaricabile che dura tantissimo e hanno i vari cavetti, la custodia che adesso vi prendo. Arrivano all'interno di questo, a parte la scatola di cartone che non mi interessa al momento, per attaccarlo al jack normale di uno smartphone, quello grigio e quello nero, questo è quello per lo smartphone, quello che c'è lì, che sto utilizzando, è per le reflex normali, per gli agganci normali. Se volete utilizzarlo con l'iPhone, bisogna, con l'attacco lightning, sto parlando, dobbiamo dotarci di un adattatore che vada da questo jack all'attacco lightning. Attenzione perché quelli tarocchi, purtroppo, per esperienza personale, li ho provati e non funzionano. Bisogna, purtroppo, bastardi, acquistare quello proprietario, il loro. Però è comodissimo. Ci sono all'interno anche due piccoli gatti morti che vanno inseriti sopra se li dobbiamo utilizzare all'esterno. Altra particolarità tecnica, non da sottovalutare, è la possibilità di utilizzarli in mono e con tracce divise. Comodissimi se dobbiamo fare delle interviste con due persone che parlano, ci registriamo le due tracce divise e possiamo fare in modo che non vengano disturbate. Se uno magari parla intanto che l'altro parla, le possiamo tenere tranquillamente divise. Questo parlando proprio in modo pratico in soldoni. La luce CL60 della Neewer, marca che ormai è abbastanza famosa, Neewer, lo vedete qua. Compattissima, portatile, con nella dotazione non un granché ma il cono, attacco bowens normale, cioè di larghezza normale, non ridotta. Maniglia che si sgancia, qua sotto questa maniglia ha una vite da un quarto, se vogliamo evitare di sganciarlo mentre lo stiamo portando a mano, lo possiamo agganciare direttamente con questa vite e noi siamo a posto, lo possiamo lasciare lì. O a volte, come mi è capitato, io l'ho utilizzato anche con il famoso supporto della Manfrotto, l'ho agganciato in questo modo e l'ho appoggiato per terra o su un mobile in questo modo. Regolabile, ventola, abbastanza silenziosa, tutto sommato. Altra cosa molto importante è bicolor, 3200 e 5600, c'è anche scritto qua, c'è scritto sulla regolazione. Poi ha la regolazione della potenza, questo è 60 Watt. Questo stupendo softbox della Triopo, acquistato un po' di tempo fa, molto interessante anche lui perché è molto portatile, comodissima sacca dove lo possiamo infilare e lo montiamo e smontiamo in veramente 30 secondi. Ecco qua lo sto montando, questo è montato, possiamo lasciare il telo assolutamente attaccato, si piega, ha un telo ulteriore interno, cioè ha il doppio telo bianco se vogliamo lasciarlo e arriva con anche la griglia. Se vogliamo direzionare la luce in modo migliore, agganciamo la griglia con il velcro qua davanti e noi siamo a posto. Questo è veramente una figata, questo è quello da 65 centimetri, c'è anche più grande, costa un po' di più. Il monopiede della Coman ha una testa fluida, diciamo che non è di una qualità eccessa, ma è sempre una testa fluida per video che gira in modo agevole sia in questo senso, sia in questo senso come tutte le teste fluide, ha un aggancio rapido, tutte le brugoline per i vari settaggi per stringere questa vite all'attacco da un quarto, qua sotto c'è una vite ulteriore con un attacco da un ottavo. Una cosa molto comoda che hanno anche altre marche, ma comunque ce l'ha, qui agganciato sulla piastra c'è la brugola per stringere la vite sotto. Con dei magneti la lasciamo qua e lei rimane sempre agganciata e noi quando la dobbiamo usare ce la troviamo sempre lì. Altra cosa è molto leggero, ha questo sistema di sgancio, la parte sotto se dobbiamo inclinare si inclina anche in questo modo, anche questo ha una tacca con una testa a sfera e si inclina in tutti i sensi e si inclina anche molto di più se dobbiamo utilizzarlo per andare a seguire delle cose. Ho fatto anche un video che vi lascio in descrizione, sacca con la quale arriva questo monopiede, molto comoda, robustissima, robustissima, imbottita. La possiamo utilizzare, io la utilizzo anche per altri scopi, ci metto dentro altre cose, è abbastanza lunga, ha una tasca qua all'interno. È veramente fatta benissimo e ha due maniglie che possono essere chiuse con il velcro e ha una fettuccia, ce la possiamo mettere a tracolla in questo modo. Il DJI RS 3 Mini, questa è una cosa veramente fantastica, probabilmente lo conoscete già, probabilmente avrete già visto mille recensioni, ha un piccolo trappiede sotto che può essere sganciato, questo è tutto il nostro stabilizzatore. Dal mio punto di vista qualcosa che se avete bisogno di uno stabilizzatore e non avete l'esigenza di un qualcosa di più grande, cioè del fratello maggiore o di qualche altra marca, questo è veramente una cosa da utilizzare. Una particolarità che sto utilizzando ultimamente e che ho trovato molto comoda è la regolazione della rotella per un movimento dell'asse. Io lo sto utilizzando per questo movimento, la fotocamera quando è così, in su o in giù, perché tante volte mi capita di essere in una posizione, dovermi muovere appena, invece di muovere tutto, giro la rotella e devo dire che è molto più comoda del joystick che c'è dietro, questo, che ha il movimento su tutti gli assi, però è molto più delicato e il movimento secondo me è migliore se devi fare proprio delle cose abbastanza precise. Molto velocemente sganciamo questo, questa piastra, agganciamo la piastra qua e possiamo inserire la fotocamera in verticale. Ultimo, ma non ultimo, adesso ve la prendo, port keys 5 pollici PT5 versione 2. Anche questo, come la luce della newer, la possibilità di essere alimentato in più modi. Questa luce da 60 watt ha la possibilità di essere alimentata oltre che con il suo alimentatore che arriva con la confezione, le batterie Sony, classic batterie Sony che vanno un po' ovunque. Stessa cosa questo monitor da campo della port keys ha l'attacco, in questo caso ancora meglio per me perché ho le fotocamere Canon, ha l'attacco per le batterie Sony e per le batterie della Canon. Quindi alimentazione con il jack per la rete, alimentazione via USB e alimentazione con due tipi di batterie. Sicuramente non vi troverete mai a piedi perché in ogni modo avete il modo di alimentarlo come volete e in qualsiasi modo. Anche questo, grandissima confezione a tenuta di tutto, comunque trovate tutto nella recensione che vi ho detto. Schermo touch, la possibilità di inserire delle latte ad un prezzo di questo tipo, penso che non si possa volere nulla di più. L'unica nota un pelino negativa, se lo dovete usare all'esterno con delle giornate molto luminose, è la luminosità non esagerata, è uno schermo economico. Ci può aiutare molto questa protezione che è inserita nella confezione e che noi possiamo installare in questo modo molto velocemente. Ci dà una mano a fare un po' d'ombra e a vedere comunque il tutto. Questo era tutto per quanto riguarda questa offerta del contro Black Friday, nella settimana del Black Friday. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete fatto degli acquisti, se avete trovato del materiale altrettanto buono, se le offerte vi sono piaciute, se avete qualcosa di questa attrezzatura, come vi trovate, cosa ne pensate, se quello che ho detto vi ritrova d'accordo oppure no. Per oggi è tutto, grazie per aver guardato e al prossimo video. Ciao ciao!